I giornalisti amano le palle solo in occasione degli ormai classici incontri con gli attori. Al poeta Calcagno la Carmi e la Gonda consigliano la cura del calcio. Tino Scotti in materia di massaggio pratica l'autarchia col solito risultato dell'autarchia. Rizzo fiuta la battaglia. Serato e Pastore oggi lavorano senza trucco e Fiermonte terrà le mani a casa. Toso come calciatore cerca ispirazione in un paio di gambe. Radiocronista e Fabrizi si meraviglia che il pallone non entri in rete. Avanti c'è posto. I giornalisti oggi si esprimono coi piedi e se la cavano magnificamente come se non avessero mai fatto altro. Redazione affiatatissima. Zaterin butta giù la propria persona come butterebbe giù un articolo. Pilotto non si è fatto l'antitifica. Giornelli giornalista munito di pizzo piazza il primo gol in barba a Marietti. Calma Glory. I giornalisti rotocalcano male, gli attori lavorano coi piedi e meritano un gol e il sorriso di 64 denti.